Arriva ormai anche Natale, è soltanto il mese di dicembre, comunque non è così vicino ma l'aria che si respira è quella in festività. Noi comunque rimarremo sempre igi a un report, a news che contemplino ovviamente anche un fatto concreto e non scontato di bontà. Smascherare coloro che fingono bontà ma celano malanimo e così andiamo su una strada delle più sconnesse magari e delle più rischiose, però ci servono in tanti e questo è il supporto principale. I malvagi che devono nascondere i loro peccati, scagliano le pietre ma sono pietre di gomma che ribalzano e come i boomerang ritornano sulle loro teste. Eh? Buona questa vero? Good job, good travel, good trip to you. Bye bye from DG.